Buongiorno, io sono Filippo Foggi e sono rappresentante del Consiglio dei Ragazzi. Il Consiglio dei Ragazzi è un organo che è stato eletto dalla scuola e durante queste ore parliamo dei vari argomenti. Buongiorno, sono Elia Vannelli, rappresentante del Consiglio dei Ragazzi e oggi vi parleremo dell'incontro che faremo. Venerdì 1 aprile incontriremo la prefettura verso l'aula del Consiglio e parleremo delle indipendenze. Mentre venerdì 29 aprile, presso sempre l'aula del Consiglio dei Ragazzi, incontreremo la polizia di Stato e parleremo dei social con il vice-guestore aggiunto dottor Mancini Prolitti.